Ciao a tutti, ben arrivati all'approfondimento di questo mese. Avete scelto voi, come sempre all'inizio di ogni mese faccio un sondaggio, la scelta è fra tre argomenti, appunto in lizza, e avete scelto voi il pianificare un viaggio a lungo termine. Che cosa intendo per pianificare un viaggio a lungo termine? Intendo il viaggio che è diverso da 15 giorni, 7 giorni, un weekend. Un viaggio a lungo termine può essere per diversi motivi, per diversi obiettivi, vedremo tutto in questo approfondimento, perché è un approfondimento, chiaramente non potrà essere esaustivo al 100%, perché gli argomenti sarebbero decine e decine, se non centinaia, ma proverò comunque a inserire tutto o quasi, diciamo. Quindi ci sono delle attenzioni maggiori da avere, ci sono dei prodotti diversi da comprare rispetto alla classica vacanza e quindi è un indice veramente, veramente corposo. Ma ora te lo vado proprio a, diciamo, estrarre l'indice, così sai anche quali sono gli argomenti che tratteremo. Ci sarà una breve introduzione, poi dopo parleremo della durata del viaggio, che è un punto importante, la tipologia di viaggio, quali sono gli obiettivi, perché bisognerebbe avere degli obiettivi per un viaggio a lungo termine, il capitolo forse centrale e più corposo, immagino, che sarà quello del budgeting, ovvero dei budget, di studiarsi il budget, perché è veramente importante, la pianificazione dell'itinerario, che è altrettanto importante, poi parleremo di alloggi, di trasporti, delle attenzioni davvero importanti da avere in questa tipologia di viaggi, del bagaglio, perché non possiamo non parlare di bagagli, del lavoro sì, perché a seconda della tipologia di viaggio che avrai, forse, e dico forse, dovrai anche lavorare, forse, però non è detto. Poi parleremo, ci sarà un capitolo dedicato alla vita in viaggio, perché ci sono dei punti importanti di cui ti devo parlare, ci saranno degli ultimi consigli altrettanto importanti, e poi andrò con le mie conclusioni e i pensieri, e dopo le conclusioni e i pensieri, l'ultimo capitolo, passerò alla sessione di domande e risposte. Ricordo che questi approfondimenti di tutti i mesi, scusate, ho picchiato contro il microfono, ricordo che questi approfondimenti ne abbiamo uno al mese qui sul canale YouTube di Viaggio Vero, alle ore 18, e il giorno varia, siamo sempre nella seconda parte del mese però, e per la versione in diretta, quella che state seguendo adesso voi in diretta, per chi è in diretta appunto, è gratis, è completamente gratuita, completa e anche con la sessione di domande e risposte finali. Alla fine della diretta questa si spegne, e si può però acquistare da domani in versione completa, da rivedere, vedere, rivedere quante volte si vuole, ci sarà anche la versione audio da domani, quindi si potrà riascoltare anche la versione audio, magari per chi la vuole ascoltare in auto, molto comodo, stile podcast, e poi ci sarà anche un file con tutti i link cliccabili, un file PDF con tutti i link cliccabili da scaricare, con le risorse utili che cito, qui te le cito soltanto in diretta, e poi chi acquisterà il prodotto da domani, perché domani sarà a pagamento, prezzo low cost, il prezzo pieno low cost è di 12 euro per ciascuno degli approfondimenti che ho pubblicato, ma i primi giorni dopo l'uscita dell'approfondimento stesso, il nuovo approfondimento è in sconto del 25% per 4-5 giorni, quindi lo pagate solo 9 euro, e poi vi ricordo che tutti gli abbonati al canale di Viaggio Vero, tutti, a tutti i livelli, hanno gli approfondimenti al 50%, scontati al 50% sempre, i livelli più alti ci hanno anche gratis, però quelli sono i livelli più alti, tutti gli abbonati ce l'hanno al 50%. E' ora di iniziare, quindi tiro fuori tutti i miei appunti, perché ce ne sono parecchi, e andiamo e cominciamo, perché è importante. Allora, partiamo dalla introduzione, l'introduzione di questa giornata, ovvero della pianificazione di un viaggio a lungo termine. Che cosa intendo per introduzione? C'è una grande differenza tra il viaggio a lungo termine e la vacanza breve, e qual è questa differenza? La vacanza breve, ragazzi, è sostanzialmente quello che dura un weekend, una settimana, anche 15 giorni, ed è una pausa, è sostanzialmente una pausa dalla routine quotidiana, né più né meno. È uno dei momenti in cui dobbiamo rilassarci di più, è un'opportunità appunto per rilassarsi, esplorare un nuovo posto e godersi del tempo libero. Un viaggio a lungo termine è diverso, un viaggio a lungo termine può durare un mese, può durare sei mesi, può durare due mesi, può durare un anno, può durare a tempo indeterminato, ha un impegno maggiore. Ha un impegno maggiore perché è un'opportunità che hai per immergerti nella cultura locale, nelle nuove culture, imparare, apprendere nuove lingue, ad esempio, o vivere esperienze che puoi fare soltanto se stai tanto in un posto. E quindi anche la pianificazione di questi due viaggi è completamente diversa. Se la pianificazione di un viaggio vacanza, chiamiamolo così, richiede meno preparazione, a meno che vabbè uno vada lontano, 15 giorni, allora magari richiede tanta preparazione, ma in realtà ne richiede comunque sempre meno di un viaggio a lungo termine, perché è palese, deve essere più minuziosa la pianificazione, soprattutto il lato budgeting, che sarà appunto un capitolo importante di questo approfondimento, perché si rischia veramente tanto se non si fa un budgeting fatto bene, una, diciamo, uno studio dei costi. E soprattutto, lo metto come ultimo ma non ultimo, una mentalità anche più aperta di chi viaggia per vacanza, anche se la mentalità aperta dovresti averla sempre, ma chi viaggia per vacanza, soprattutto chi fa weekend o settimane, eccetera, eccetera, diciamo che ha meno esigenze di avere una mentalità aperta, di essere flessibile. Ripeto, dovrebbe esserlo, ma ce n'ha meno. Nel caso del viaggio a lungo termine diventa quasi obbligatorio. Sono due modi di viaggiare splendidi entrambi, ma come ti dicevo sono diversi e questo era l'introduzione. A questo punto dobbiamo parlare della durata del viaggio. E come ti ho già anticipato poco fa, la durata del viaggio dipende. La durata del viaggio dipende perché ci sono attenzioni da avere in tutti i casi. Sia che noi parliamo di un viaggio di un mese, perché un viaggio a lungo termine è già di un mese. Diciamo che a livello di definizione il viaggio di un mese è già un viaggio a lungo termine. È il minimo, sostanzialmente. Due mesi, sei mesi, un anno potrebbe essere a tempo indeterminato. Potresti partire e non sapere quando rientri. Ecco, in tutti questi casi ci sono attenzioni da avere che sono anche diverse, quindi non le potrò citare tutte. Qui farò un escursus generale e non mi soffermerò su una durata specifica, perché purtroppo ci sono troppe casistiche e questo dipende molto. Però vedremo che ti farò qualche casistica a seconda della durata di viaggio. La tipologia del viaggio, perché un viaggio a lungo termine può essere un viaggio anche solo di tour, ad esempio un grande tour, un mese in tour, due mesi, tre mesi, sei mesi in viaggio, magari un anno in viaggio. Hai chiesto un'aspettativa. In Italia è meno, sì, è meno usuale farlo, ma all'estero è una consuetudine. Non so se lo sapete, ma il famoso anno sabbatico, sabbatico, in tantissime nazioni inserire l'anno sabbatico nel curriculum vitae è motivo di punti per il curriculum vitae. Significa che tu hai deciso di fare un'esperienza fuori dalla tua zona di comfort e quindi è motivo appunto di acquisizione punti sul curriculum vitae. In Italia un po' meno, non voglio parlare male del mio paese, però in Italia è chiaro che un po' meno e ti chiedono ora un po', ora meno. Però in passato, se c'era questo anno sabbatico nel curriculum, tanti non ce lo mettevano nemmeno perché storcevano il naso le aziende. Eh ma, infatti sei fatto i cavoli tuoi per un anno, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono valutazioni diverse, però magari hai un'aspettativa. Ripeto, non sono così tanti in Italia, non c'è una percentuale così elevata che chiede aspettative, ma sta crescendo, ma sta crescendo. Quindi puoi avere un'aspettativa di tre mesi, di sei mesi, di un anno, a seconda dell'azienda, a seconda delle regole, non le so, però di base so di casi che è stato fatto. Oppure l'anno sabbatico alla fine dell'università, per dire, oppure un anno sabbatico fra un lavoro e l'altro, perché no? Questo è un tipo di viaggio. Magari in questo tipo di viaggio tu non vuoi nemmeno lavorare. Se hai fatto un budgeting accurato, non devi nemmeno lavorare. Devi stare un po' attento, o attenta, ma non devi lavorare. Poi puoi essere un nomade digitale, puoi essere una persona che lavora in viaggio, più o meno. Nomade digitale, location independent, puoi essere una persona che fa la stagione. Mi spiego meglio, magari vai a raccogliere frutta in Australia per sei mesi, e gli altri sei mesi te li fai facendo tour, girando, non lavorando per nulla e spendendo quello che hai guadagnato in sei mesi di duro lavoro, perché è duro lavoro nelle campagne australiane, magari in Asia, dove quello che hai preso con il dollaro australiano vale parecchio, perché magari hai i baht, magari hai le rupie indonesiane, magari hai le rupie indiane, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto, la durata, la tipologia di questi due capitoli che abbiamo visto adesso, chiaramente sono legati anche a un budget che tu hai. È inutile che ci giriamo intorno. Anche partire per un viaggio a tempo indeterminato, non sapendo quando si rientra, bisogna avere comunque un budget per questo tipo di viaggio. Perché? Perché anche se stai lavorando nel momento, è difficile tenere dietro le spese. Non sei in una casa in cui le spese sono più o meno fisse. Sì, puoi avere le spese condominali straordinarie, puoi avere, non so, un problema di qualche tipo, e quindi hai una spese straordinaria, ma soprattutto cambiando spesso paese, muovendosi, il budgeting è fondamentale. Quindi la tipologia di viaggio, come hai visto, ce ne sono di diverso tipo. Ora, prima di parlare appunto di budgeting, che come ti dicevo è il capitolo forse più corposo e importante di tutto questo intervento, anche se dopo anche gli altri capitoli, gli alloggi e tutto il resto sono importanti. Sto andando veloce in questi primi capitoli, perché dopo ho veramente tante cose da dire. C'è il capitolo degli obiettivi. Quali sono i tuoi obiettivi? Un viaggio a lungo termine, a mio avviso, non deve essere organizzato senza un obiettivo. Qui sono drastico. Poi magari tu mi dirai, nella sessione di domande e risposte alla fine, no, no, io parto per viaggiare. Io parto per vedere posti. È un obiettivo comunque quello di vedere posti. Secondo me ci vuole qualcosa di un pochino più profondo. Nel senso, l'obiettivo può essere, da un obiettivo pratico, vado in quel paese, viaggio a lungo termine, perché voglio vedere, voglio provare a vivere in quel paese e capire se quel paese che desidero, che ho desiderato da anni e che finalmente posso visitare con un tempo più lungo, fa per me. Posso viaggiare con l'obiettivo di imparare bene o quasi perfettamente, quasi perfettamente difficile, ma bene una lingua, la lingua del posto. Ad esempio, vado in Cina e sto in Cina un anno perché vado a studiare il cinese, perché poi in futuro penso che il cinese mi aiuti in questo, questo e quest'altro. Vado in un viaggio a lungo termine perché voglio diventare insegnante di yoga e quindi vado a frequentare corsi di yoga in Asia. Voglio diventare insegnante di mindfulness, meditazione, quindi vado in India, vado in Sri Lanka, vado in sud-est asiatico e vado a frequentare corsi che mi diano poi degli attestati appunto in cui si dica che io sono un esperto in questo e questo e quest'altro. L'obiettivo può essere anche quello di cercare un lavoro, semplicemente cercare un lavoro. L'obiettivo può essere quello di ritrovare se stessi, anche se qui vado un attimo, lasciatemi andare un attimo sul filosofico. Come diceva Terzani, scappare per viaggiare, cioè viaggiare come modo, cioè il viaggiare come fuga non serve a nulla. È più, prima devi ritrovarti. E va bene, il viaggio ti può aiutare, ma è sempre meglio comunque ritrovarti, perché passami il termine, non sto parlando a te direttamente, sto parlando a me, a tutti in generale. Se siamo stronzi qui, lo saremo dove andiamo, non cambiamo in questo senso. Abbiamo mente aperta, possiamo migliorare leggermente, ma se siamo stronzi, se abbiamo dei problemi, non parliamo di stronzaggi, se abbiamo dei problemi e andiamo via dal nostro paese perché abbiamo quel problema, non è così frequente che poi quel problema si risolva. Quel problema viene dietro a noi, soprattutto se è un problema legato alla psicologia, legato alla nostra mente, al nostro modo di essere. Per cui, secondo me, la fuga non è il motivo giusto per partire con un viaggio a lungo termine, nemmeno dimenticare un amore, direi che non è proprio l'ideale. Detto questo, ognuno fa come vuole, è chiaro, io passo queste considerazioni, magari alla fine poi ci torneremo, però gli obiettivi devono essere un pochino più concreti, un pochino più studiati prima di partire per un viaggio a lungo termine, lasciami lasciami dire questo, poi dopo vedi tu, come sempre. E ora torniamo sul pratico con il capitolo corposo del budgeting, perché, ripeto, questo sarà quasi un capitolo centrale di quello che è questo approfondimento. Il budgeting va fatto sia che noi andremo a lavorare in viaggio, quindi sia che noi andiamo a cercare un lavoro in viaggio, sia che noi facciamo il nostro lavoro online in viaggio, sia che noi non lavoriamo, anzi, soprattutto se noi non lavoriamo. Se tu utilizzi quel famoso anno sabbatico, se tu utilizzi un'aspettativa, se tu utilizzi qualsiasi motivazione per fare un viaggio a lungo termine e hai deciso che non lavorerai all'interno di questo periodo di viaggio e quindi ti muoverai, starei fisso o fissai, ti muoverai o ti muoverai come vuoi, però il budgeting sarà ancora ancora più importante. La prima cosa da fare è la stima dei costi. Una stima dei costi stando larghi, nella peggiore delle situazioni, stando larghi, va fatta. Va fatta una stima dei costi abbondante. Puoi usare un foglio Excel, banalissimo foglio Excel, dove tu andrai a mettere dentro tutte le voci di costo, l'affitto, l'hotel, se decidi, questo non posso essere così preciso, perché? Perché tu magari hai deciso di viaggiare e alloggerai solo e sempre in guest house e la tua voce sarà guest house. Io magari ho deciso di voler più, di rimanere fisso più in un posto e quindi magari per sei mesi prendo un appartamento. È talmente diversa la cosa, comunque hai capito, la voce alloggi, la voce trasporti, dal primo volo all'ultimo volo praticamente che ti riporta a casa. Anche magari inserisci il trasporto dall'aeroporto in Italia a tornare a casa. È sempre meglio. Avere una stima di quanto ti costerà quel viaggio idealmente. L'unico, l'unica occasione in cui la stima del viaggio totale può essere non fatta è quando fai un viaggio a tempo indeterminato, cioè quando non sai quando tornerai. A quel punto lì viene consigliato e ti consiglio anch'io di fare una stima per i primi sei mesi perché già con una stima dei primi sei mesi sai dove andrai a parare e sai quanti soldi avrai da parte. Puoi usare come ti dicevo banalmente un foglio Excel, ce ne sono centinaia da scaricare con la gestione delle spese oppure ci sono anche app se vuoi essere un pochino più geek, un pochino più tecnologico. Io qui te ne cito tre e te ne inserisco anche nel file e pdf Excel il pdf non Excel il file pdf che arriverà appunto a chi acquista il prodotto se hai acquistato il prodotto lo puoi già scaricare. Money Manager Expenses tre tre più famose quindi Money Manager Expenses MoneyFi e banalmente quella che si chiama gestione delle spese sono tutte e tre scaricabili su tutte le piattaforme Android e iOS e hanno tutte la versione gratuita alcune poi hanno delle versioni premium che ti fanno fare più cose ma per una stima dei costi iniziali se vuoi usare un'app possono farlo tranquillamente è chiaro che sono studiate per gestione della casa gestione della vita in generale ma puoi piegarle all'utilizzo di gestione appunto della tua stima di viaggio senza problemi assolutamente si può fare quindi te le ripeto comunque le trovi scritte nel file pdf per chi l'ha acquistato Money Manager Expenses MoneyFi e gestione delle spese